Di galoppo Pentax allo stacco, prima dello stacco della macchina, alla chiusura delle ali emerge al comando Epitasco che coglie ottima partenza dalle retrovie, partito velocissimo, Palomo del Rombo che in breve attacca il battistrada e lo scavalca rievolmente, 14 a partire, Pari de Masch si sistema terzo in corda a precedere a sua volta Punk B che ha colto anch'esso buona partenza dalla seconda fila. I 400 vengono passati dal battistrada di Paloma del Ronco sul piede del 29.5, in seconda posizione troviamo sempre il numero 5 di Pepitasco che precede Pari de Masch, Punk B all'esterno con di dentro il 3 di Piramo, a seguire poi Pepe dell'Alvio che si trascina Purlite UR. Intanto Punk B si inizia a muovere, va ad aggirare Pari de Masch e si porta a contatto di Pepitasco, sempre dietro il battistrada di Paloma del Ronco che sta facendo ritmo a piacimento. 1.2.5 il passaggio agli 800, 16.5 di frazione, Pepitasco in seconda posizione all'esterno e Punk B con i concorrenti che ora vanno a metà della dritta di fronte, il passaggio al chilometro da parte di Paloma, in 1.17.3.14.8 di frazione, si avvicina Punk B che lo costringe all'improvvisa accelerazione a Paloma del Ronco che aveva fatto i suoi comodi fino a quel momento, i due si distaccano per il momento, 1.31.3.4.13.7 la frazione, un inciampone per Punk B che sbotta di Galotti. Numero 11, squalificato. 1.15.3 ragguaglio al chilometro, l'ultimo quarto in 29.4, 14.9 la addirittura di arrivo, la vittoria facile 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 per Paloma del Ronco, Mario Minopoli Junior, 2.08 la quota, bella affermazione per questo numero 12, facile facile si declassava e tale è stato, 12 al primo, 6 al secondo e al terzo arriva l'otto di Petetopra che precede l'uno di Pari de Masch. Grazie. Grazie.